Uno degli aspetti di cui si parla meno in generale quando si tratta dell'ambito chitarra, inteso proprio come strumento e attrezzatura e rig che ne consegue, sono le corde. Questo è un video che serve per riportare la mia esperienza personale tra tutti i tipi di corde che ho provato soprattutto negli ultimi tempi e fare una media per cercare di capire se effettivamente abbia senso andare a volte sui modelli più costosi e di punta di certi marchi e se non valga invece più la pena ottenere un risultato medio attuando il compromesso che ci fa risparmiare di più, quindi senza svenarci in prodotti che alla fine si rivelano meno utili del previsto, ma senza neanche avere qualcosa di completamente scadente. Buondi musicisti, io sono Matteo Nori e oggi parliamo della mia esperienza con le corde per chitarra, specifico che si tratta diciamo per il 95% del video di corde per chitarra elettrica, poi vi farò vedere anche quello che sto usando sulla mia acustica che però è un'acustica un po' particolare, ma il video non è incentrato su quello anche perché di corde per chitarra acustica ne ho provate molte meno e posso dare un parere soltanto su quella che ho provato, diciamo le ultime due tipologie che ho provato, mentre per chitarra elettrica dovete sapere che nell'ultimo anno ne ho provate un bel po' o comunque diversi tipologie di diverse marche che mi hanno fatto capire tante cose e che voglio riportarvi in questo video. però prima di passare a spiegarvi esattamente il tutto nel dettaglio vi voglio anticipare che io non sono in alcun modo sponsorizzato da nessuno e ci tengo a dire che il mio intento non è quello assolutamente di influenzare nessuno di voi e non ho nessuna intenzione, non me ne viene niente in tasca dal fatto di farvi comprare un prodotto rispetto a un altro. Faccio una piccola premessa prima di parlare nel dettaglio delle corde, questa cosa è un mio parere personale, ci sta che magari qualcuno possa pensare in maniera diversa, io parlo soltanto di quello che è la mia prospettiva e la mia esperienza diretta. Io in questo video non vi farò sentire quelle di cui vi parlo, in primis perché molte di esse non le ho più, cioè le ho provate montate magari su una chitarra per un paio di mesi poi smontate tempo fa non ce le ho più fisicamente proprio da farvi vedere. In più, il motivo principale per cui non lo faccio è che sono convinto che le corde per chitarra elettrica a livello di sound non vadano a influire quel tanto da renderlo un parametro veramente significativo per l'acquisto. Ora, ognuno può pensarla come vuole, però da quello che ho sempre notato io ci si fa tante pippe mentali su questa cosa ma poi si fa passare la chitarra tramite un cavo, tramite una pedaliera, il suono viene influenzato in primis anche dai pick up, poi entra in un amplificatore, magari un microfono e magari entra dentro una scheda audio, cioè tutte queste cose, queste micro sfumature di una corda rispetto all'altra si vanno completamente a perdere in uno scenario reale perché sì, magari qua su YouTube uno potrebbe farvi il testing pulito con la chitarra direttamente scheda audio e allora magari cominciate a sentire differenze perché il segnale è clean, ma appena andate in un contesto reale dove c'è tutta una catena del suono, queste sfumature basta muovere un potenziamento di un pedalino e si vanno completamente a perdere. Quindi i due parametri su cui mi baso io sono la durabilità e la morbidezza nel suonarle, quindi la comodità, cosa soggettiva, sia una che l'altra in realtà, però cerco di darvi un'opinione che sia diciamo il più imparziale possibile, anche se non è possibile farlo in maniera totale, ci proverò. Un'altra premessa che vi faccio, quando parlo di questione di quanto durano le corde, è una cosa soggettiva perché dipende dalla sudorazione, quanto si suona, l'ambiente in cui si vive. Allora io vivo diciamo nella pianura padana, quindi durante tutto l'anno c'è diciamo una grande dose di umidità, vi dico che non sono una persona che suda tanto, ho molto spesso le mani abbastanza secche, non sono uno che tende a sudare, questo è sicuramente un grandissimo plus e allo stesso tempo attualmente possiedo quattro chitarre e non le sono tutte con la stessa frequenza, ok? Ho una chitarra che uso sempre alle prove, che è la mia PRS che sono 24, mentre le altre tre sono quelle che ruotano dal vivo principalmente, cioè le uso un po' a casa un po' dal vivo, la PRS di solito è quella che uso quasi solo alle prove e raramente è live. Questo ci tengo a specificarlo perché magari può dare una panoramica di quello che può essere il mio utilizzo un po' così a spanne, poi ovviamente non è che tutti i mesi dell'anno suonano allo stesso modo, con la stessa frequenza le stesse chitarre, però più o meno la regola circa è quella. Per quanto riguarda la scalatura delle corde ho sempre usato le 0.10.46 fin da quando ho iniziato a suonare, questione di abitudine, mi sono abituato così, ho sempre continuato così, mi trovo bene così. Perché qualcuno parlando di comfort sulle corde più avanti nel video potrebbe dirmi eh ma quelle corde che tu magari dici sono dure, potresti provarle in configurazione 0.9. Io dico che sì, si potrebbe fare, ma in questo momento, poi magari più avanti potrei anche sperimentare, in questo momento non ho voglia di farlo. In primis perché in casa ho ancora tante corde 0.10 e se dovessi trovarmi meglio anche ad esempio con le 0.9, anche soltanto parzialmente, dovrei comunque finire di usare le 0.10 perché ho diverse mute di 0.10 ancora in casa. Secondo motivo è che mi toccherebbe risettare completamente ogni singola chitarra che ho perché sapete che una volta che cambiate la scalatura delle corde, cambiate la tensione dello strumento su manico, ponte eccetera quindi va rifatto quasi tutto. In questo momento io mi sono sempre detto finché la barca va, se ti trovi bene con quelle, hai iniziato a suonare con quelle, hai sempre usato quelle, ci sta a sperimentare in un momento dove magari non ho cose per cui mi pesa farlo quindi magari è una cosa che valuterò più avanti. Io nell'ultimo anno ho cambiato diversi tipi di corde perché più o meno dall'inizio del 2023 ho cominciato a chiedermi ma perché non cambio tipologia di corde rispetto a quello che avevo sempre usato per anni? E cosa ho usato per anni fino appunto a circa un annetto, un annetto e mezzo fa? Beh, ho sempre usato le Earnable Regular Slinky. Quindi da quando ho cominciato a suonare ho cominciato a suonare quelle 0,10 perché comunque sono un po' il diametro standard che si trova sulla maggior parte delle chitarre e utilizzando queste qui per diverso tempo partendo da principiante poi pian piano evolvendosi non ho mai sentito più di tanto l'esigenza nei primi anni in cui suonavo di cambiarle perché mi trovo bene, ci sta. Complice anche il fatto che costavano meno una volta perché quando ho iniziato a suonare io anni fa queste corde venivano meno di 6 euro al pacchetto adesso queste qui vengono intorno agli 8 euro, ok? circa, siamo su quei prezzi lì mentre registro il video sono salite un bel po'. C'è stato un momento in cui ho detto ma io non ho mai provato altri tipi di corde proviamo a vedere se le fantomatiche Daddario e Elixir varie che vi farò vedere adesso sono effettivamente migliori allora diciamo che venendo dal mondo Ernie Ball in realtà vi posso dire che ho avuto una transizione per un periodo alle Daddario e XL se non vado errato sempre 10.46 come queste e diciamo che tra le due non ho mai trovato una grandissima differenza cioè c'era quella volta che una muta di queste mi durava un po' di più c'era quella volta che duravano un po' di più le Daddario e viceversa perché dipendeva da me da vari fattori eccetera eccetera alla fine le ho sempre considerate equivalenti e tuttora anche come costo sono equivalenti quindi secondo me questo è l'Eda Dario di cui vi sto parlando siamo lì cosa ho fatto poi? ho provato una muta di Earnable Paradigm quindi quelle che sono considerate quelle più fighette rispetto a queste quelle che costano praticamente il doppio o se non addirittura delle volte il triplo di queste che dovrebbero essere più durature dovrebbero avere un sustain migliore un suono migliore eccetera eccetera le Paradigm una volta montate mi hanno dato subito sì una sensazione di maggior cura magari un suono con un po' più di sustain magari anche un po' più bello diciamo un po' più ricco perché non saprei come definire bello in maniera scientifica diciamola così un po' più ricco un po' più completo sullo spettro delle frequenze delle armoniche il problema è che la cosa di cui mi sono reso conto praticamente subito è che erano durissime cioè veramente io che sono un chitarrista che è abituato a fare molti bending per quanto riguarda cose come funk e ritmiche dove bisogna avere un buon attacco sulle corde ma senza diciamo fare dei gran bending vibrati erano buone ma nel momento in cui dovevi fare un bending erano veramente tanto dure ed è una cosa di cui mi sono reso conto quasi subito e già lì avevo già detto che queste non sono le mie corde cioè probabilmente non comprerò un'altra multa e quelle corde lì sono durate un po' adesso non mi ricordo di preciso perché è passato un po' di tempo purtroppo test durabilità mi ricordo che sicuramente almeno due mesi e mezzo forse anche tre sicuramente li hanno fatti però diciamo che alla fine ho dovuto scaltarle per quel motivo là subito dopo aver provato le paradigme mi sono cominciato a informare su altre tipologie di chitarre che nel frattempo ero tornato alle regular slinky per quei motivi lì quindi dicendo sì ok dureranno anche un po' meno però tanto a livello di suono nel momento in cui l'attacco alla mia roba non notavo nessuna reale differenza che fosse realmente percepibile da fuori e a questo punto cercando anche qualcosa di più rispetto alle regular slinky mi sono imbattuto nelle DR in particolare le pure blues mi ero imbattuto in un video che aveva fatto a tema corde mi sembra febbre da chitarra e qui diceva che per anni aveva usato queste e ci si trova molto bene diciamo che rispecchiava molto anche quello che è un po' il mio playing e il mio stile decido quindi di provarle chiaramente parto con una muta sola che veniva quando l'ho presa io su Amazon una decina di euro quindi siamo già saliti rispetto alle regular slinky ma non siamo al prezzo delle paradigme e diciamo che poi successivamente ne ho acquistate altri infatti questo è un 3 pack il problema di queste corde è che sono sì belle durano tanto ma sono anch'esse un po' dure non sono dure tanto quanto le paradigme però dopo averle montate praticamente su tutte le chitarre che avevo perché all'inizio ne ero entusiasta ho cominciato a rendermi conto che sulle Les Paul che è a scala un po' più corta ok sulle altre forse dopo un po' che le utilizzavo che cominciavo a vedere che facevo un po' più fatica a fare certi bending non tanto quanto le paradigme che lì che me ne ero accorto subito ma comunque non erano super comfort ho cominciato a dire eh cazzarola però forse qui dovrei un attimo rivedere questa scelta dicono che hanno questo suono che già fuori dalla scatola ha questo suono caldo come se le avessi già usate da un po' probabilmente sì cioè mi viene se ci penso da dire ok sì sono d'accordo però non è una cosa per cui mi strapperei i capelli non è neanche una cosa per cui le comprerei le comprerei se volete delle corde durature perché durano un bel po' sono durate diversi mesi ma anche tipo una roba come tipo sulla Les Paul che usavo soltanto ogni tanto usavo un po' dal vivo ogni tanto così non sempre tutti i giorni non sempre in sala prove anche quattro quattro mesi e mezzo cioè non poco quindi le ho cambiate queste qui pochi giorni fa rispetto a quando sto registrando questo video quando ho finito le date estive le ho cambiate perché sulla Les Paul c'erano ancora le DR ed erano lì da vi dico almeno quattro mesi erano lì durata sicuramente tanta roba e per quanto riguarda invece il feeling se vi piacciono le corde un po' più durine ok se no se avete esigenze di corde molto morbide lasciatele perdere perché molto morbide queste qua non sono ho montato sulla chitarra di mia sorella in particolare che è la Squire che avete visto anche nel video in confronto con la Echo delle Elixir in questo caso sono delle Polyweb a detta di quello che c'è scritto dietro dovrebbero essere le più warm le Nanoweb, le Bright, le OptiWeb, quelle Natural e loro chiamano lo Crisp allora non è che ho avuto possibilità di mettere a confronto una con l'altra quindi non mi esprimerò sulle differenze di tono e sound che hanno queste corde perché vi ho già fatto la premessa che diciamo spiega tutto il mio concetto a riguardo non mi ci trovo perché sono fatte benissimo durano tantissimo ma tanto durano di più di tutte quelle altre che ho provato anche dello stesso fascio di prezzo queste qua vengono 15 euro a pacchetto circa se siete fortunati le trovate a 13 ma a me non si trovano praticamente l'unica cosa è che sono durissime cioè penso che siano come le Paradigm più o meno adesso non è che le ho confrontate una di fianco all'altra ma molto molto dure posso solo parlarvene bene se volete delle corde che durano tanto avete le mani che sudano tanto fate magari delle cose perché non vi servono le corde morbide assolutamente promossissime per questo prezzo rispetto a quello che vi danno ci stanno però io non mi ci trovo quindi niente per me niente l'XL veniamo alle ultime che ho provato ultimamente anzi questo è diciamo l'ultimo modello che ho provato diciamo nella mia un po' ricerca finora sono le Daddario XT le Daddario XT sono praticamente il top di gamma o comunque fanno parte della linea delle top di gamma insieme all'XS di casa Daddario in questo momento le Daddario XT sono montate sulla mia PRS in questo momento sono ossidate e quelle corde lì sono lì già diciamo in fase di ossidazione da giugno le ho montate a fine aprile onestamente tutta questa durata che promettono io non l'ho trovata sono corde che costano come le Elixir e come le Paradigm ho constatato che durano molto meno di queste altre due a livello di sound sì vabbè quando le ho provate suonavano bene però comunque anche dopo un po' si sono spente parecchio sono anche abbastanza durine non tanto quanto le Elixir e le Paradigm sono un po' meno durine da suonare però per me lo sono quindi comunque ci aggiungiamo il fatto che non durano tanto quanto promettono ci aggiungiamo il fatto che costano come le altre che durano di più per me sono bocciate io non mi sono trovato bene e le ho suonate anche poco perché le ho suonate soltanto praticamente alle prove cioè sulla PRS venivano suonate soltanto alle prove una volta a settimana due to' esagerando quando c'erano le cose un po' più per un paio di ore tre ore alla volta corde che promettono una durata assurda per farvi capire sono durate un paio di mesi perché già le ho messe su a fine aprile già a metà giugno erano già ossidate e praticamente un paio di mesi era la durata media che duravano un paio di regular slinky con una chitarra che veniva suonata appunto poche volte alla settimana per non tanto tempo però costano più del doppio quelle corde là quindi cioè non ho provato le XS che sono ancora più rivestite e sono ancora più a lunga durata però onestamente cioè dopo che ho provato quelle lì ho detto sì magari durano anche un po' di più ma costano un sacco per me non ne vale assolutamente la pena io alla fine sono tornato alle regular slinky perché ho detto ok io torno a casa torno alle mie regular slinky sono contentissimo perché infatti ho fatto tutta la stagione estiva con sulla ecostrato le herni borreghe di la slinky che sì hanno preso tanta umidità hanno preso tanto sudore perché purtroppo dal vivo anche se non sono persone che suda normalmente con la umidità l'hafe tutto ho sudato e quindi anche le corde ne hanno risentito ma anche e soprattutto gli agenti atmosferici e il clima hanno influito sulla loro durata sono durate un mese dieci giorni circa quindi meno del solito ma appunto sono state stressate molto sole umidità anche qualcosa di pioggia cioè potete capire benissimo che per corde non rivestite le ho messe a dura prova ma in un'indizione normale queste qui mi durano anche due o tre mesi su una chitarra che non viene utilizzata tutti i giorni dieci ore al giorno perché ovviamente allora lì dopo tre quattro settimane sarebbero da sostituire tirando un po' le somme non ne vale la pena secondo me neanche di prendere le paradigme a meno che non vi piacciono le corde molto dure magari se siete un chitarrista ritmico o fate della gran del gran accompagnamento o anche funk cose del genere allora le paradigme sono buone ad esempio penso che le usi da quel che ho capito Corey Wong però lui ad esempio di bending praticamente cioè non ne fa nel senso è comunque una cosa che cioè in qualche modo penso che vada a confermare la mia teoria cioè ovvero quella che non sono corde secondo me per fare dei grandi bending quelle che vi consiglio di più io se dovete spendere la cifra di queste corde qua diciamo di fascia alta chiamiamole volete delle corde che durino tanto perché magari sudate o vi si ossidano perché abitate al mare quindi si ossidano con niente piuttosto andate sull'elixir sempre però tenendo in considerazione il fatto che queste corde sono dure quindi da qui non si scappa invece io questo ve lo dico in più sulle mie acustiche che in realtà la mia acustica non è un'acustica tradizionale ma è una fender strat acustica quindi è una cosa un po' particolare ho montato da un po' di tempo questa parte già le Helniball di tipo Airtwood e in particolare queste devo ancora provarle perché là ci sono montate quelle normali che hanno il sole rivestito come come le altre chitarre acustiche invece adesso ho provato le Rock & Blues che sono praticamente le stesse corde in configurazione vi specifico 10-52 però hanno il sole liscio e a me serve perché quella chitarra lì quando la uso quelle poche volte che la uso dal vivo in duo acustico o quando mi serve ci faccio anche gli assoli quindi avere un'acustica col sole liscio di quelle dimensioni contenute come la fender strat acoustic mi torna molto molto utile quindi tirando le somme stai dicendo che non vale la pena prendere corde che costino di più delle Helniball se non in casi rari perché sono tutti dei mezzi scam no in realtà voi potete fare benissimo quello che volete anzi vi dico che dovete fare la vostra esperienza questo video secondo me è diciamo utile per dare un'infarinatura di un'esperienza personale che può farvi evitare degli errori come sempre riporto solamente la mia esperienza diretta in maniera pacifica ed educata vi invito a fare altrettanto qui sotto nei commenti dirmi se siete d'accordo o no soprattutto se magari avete un modello di corde magari anche di un marchio meno conosciuto che io non conosco che rispetto ai parametri che vi ho detto potrebbe piacermi e voi magari lo conoscete fatemelo sapere accetto benissimo qualsiasi consiglio anzi ci mancherebbe sarebbe veramente figo se mi consigliaste delle corde che diciamo mi diano una sensazione simile a queste ma che magari durano anche di più anche se costano leggermente di più magari sono ben contento di provarle in questo momento io però sono tornato alle mie care vecchie herniball regular slinky e con questo vi dico che se questo video vi è piaciuto potete mettere un like qui sotto e attivare la campanella iscrivendovi per non perdervi nessun contenuto e niente noi ci vediamo alla prossima ciao